Vorrei chiedere informazioni in merito a un linfoma B di alto grado, grandi cellule, con crescita diffusa. Direi asintomatico, qualche parità di peso, lieve, inferiore al 5%. Il KI67 dice dall'istologico che è del 95%. La biologia molecolare con il metodo FISH dice che c'è riarrangiamento MYC che è presente, poi il BCL2 assente, BCL6 presente, IRF4-DUPS22 che dice che invece è assente. Quindi in questo caso, diciamo quale emocromo abbastanza in linea, non ha particolari alterazioni. La PET dice che ha un SUV max in alcune aree del 33. Secondo voi quale terapia è in questo caso più promettente? Sì? Grazie. Dunque, se ho capito bene, si tratta di un linfoma B di tipo aggressivo, tendenzialmente lo possiamo chiamare linfoma diffuso di grandi cellule B, ha delle alterazioni citogenetiche che in alcun tempo potevamo chiamare ancora double it, nel senso che abbiamo una traslocazione di quel MYC e del BCL6. In realtà, nelle nuove classificazioni, diciamo che è stata riclassificata, nel senso che è stata esclusa da questa categoria cosiddetta double it, che sono quelli con una prognosi un po' più sfavorevole, quindi sicuramente la presenza di MYC aumenta un po' tra virgolette l'aggressività di questa forma di linfoma, però tendenzialmente lo possiamo trattare o come un linfoma di grandi cellule B o con dei regimi un pochettino più intensificati a seconda delle caratteristiche del paziente, quindi se si tratta di un paziente molto giovane. L'altro elemento che non ho colto è dove è localizzato, quindi se è in una singola sede o in più sedi dell'organismo, perché questo può cambiare un po' sull'intensità della cura, soprattutto per il numero di cicli di trattamento. È localizzato praticamente, se non sbaglio, nel parascellare, cioè nella scelle, poi diciamo al collo, un po' dietro al collo, ma sono ovviamente sotto la mandibola e nell'inguine, ma comunque sono praticamente erano un po' più, diciamo, di dimensioni maggiori e si sono ridotti a meno di un 30-40%. Ok. E quanti anni ha il paziente? 49. Ok, quindi si tratta di un paziente giovane. Allora, in questi casi qua la terapia standard che noi utilizziamo tendenzialmente è l'R-CHOP, quindi la combinazione del rituximab con dei chemioterapici dei quali in parte abbiamo parlato. Dopodiché dipende in realtà molto, bisognerebbe vedere il paziente per capire un po' quali sono le sue caratteristiche, nel senso che in alcuni casi si può associare un farmaco a questo R-CHOP nella prima linea o soprattutto perché un paziente è giovane e in alcuni casi si possono anche includere i pazienti in trial clinici. Diciamo che fino a poco tempo fa sicuramente il paziente con queste caratteristiche citogenetiche, quindi con MIC e BCL6, tendevamo a trattarlo in maniera un po' più aggressiva, quindi con dei regimi un po' più intensificati, simili all'R-CHOP, ma con delle dosi un pochino più alte. Oggi in realtà questo è un tipo di linfoma un pochino particolare perché è quella forma in cui non siamo ancora tutti della stessa idea su se valga la pena aumentare l'intensità della terapia, quindi utilizzare dei farmaci con delle dosi un po' più elevate rispetto all'R-CHOP o se invece unificarlo alle altre forme di linfoma a grandi cellule, quindi con l'R-CHOP classico. Diciamo che in un paziente giovane si potrebbe pensare di fare qualcosa di aumentare un po' le dosi, ma la terapia cardine per queste forme di linfoma qua comunque è l'R-CHOP. Possibilità di successo di questa terapia standard rispetto a quella un po' più personalizzata? I numeri di differenza non glieli saprei dire perché se così fosse sicuramente sapremmo quale scelta prendere, se sicuramente abbia più senso utilizzare una terapia più intensificata rispetto all'R-CHOP. Globalmente la possibilità di cura per questo tipo di linfoma con queste caratteristiche, con la prima linea di trattamento, si aggira attorno al 60-65% dei casi, e dopodiché anche nei casi comunque che non rispondono in maniera completa o che possono recidivare, ormai abbiamo anche tante altre terapie efficaci di nuova generazione. Che sono poi di seconda linea, giusto? Seconda linea, sì, e successive eventualmente. Grazie. Grazie.